I tuoi crediti FIFA al prezzo più basso e al tempo più veloce, solo su IGVOLT, passa in descrizione. Credo che questo verrà ricordato per sempre come il calcio a mercato delle notizie più clamorose. Intanto mi invito subito ad andare qui sotto e lasciare tantissimi pugni di pollice per questi video, per questi vlog che vi piacciono tanto e lasciare anche un commentino con la vostra opinione in merito. Vado a spiegarvi un po' cosa sta succedendo. Intanto la notizia più clamorosa in ordine cronologico è stata Donnarumma non rinnoverà con il Milan, salvo poi ripensarci, rinnovare. Sappiamo tutti la questione, l'abbiamo già affrontata, quindi non la riprendiamo più fuori. La seconda notizia più clamorosa è stata Bonucci al Milan dalla Juventus. Anche questa cosa è già stata concretizzata. Bonucci, un calciatore del Milan, probabilmente sarà il capitano, rossonero per la prossima stagione e quindi la accantoniamo. E quindi sono già due le notizie clamorose che riguardano il Milan. Questa volta però entrambe con calciatori italiani. E la terza notizia clamorosa che vi vado a svelare oggi che è una vera e propria bomba di mercato è Cristiano Ronaldo al Milan. Piano, con calma, non sono impazzito, non sono diventato matto. Ronaldo non diventerà un giocatore del Milan per la prossima stagione. Non c'è una vera e propria trattativa in corso. Ma ieri sera Fassone e Mirabelli si sono incontrati con Mendes in Sardegna per parlare un po' di tanti assistiti del procuratore. E tra questa cosa, tra questa conversazione, sarebbe venuta fuori una battuta che forse tanto battuta non è, perché abbiamo visto che i proprietari del Milan, i cinesi del Milan, sono veramente riforniti di sghei, come direbbe il buon caro vecchio Green, perché hanno già speso tantissimo, stanno proponendo ingaggi faraonici per la serie attuale e non dico che non avrebbero problemi perché questo mi sembra paradossale, ma sicuramente avrebbero intenzione, avrebbero piacere, ad investire tantissimi soldi in una star che potrebbe essere Cristiano Ronaldo. La battuta è semplicemente stata questa. Fassone e Mirabelli hanno chiesto a Mendes E Ronaldo dove va? Lo muovi? Sì? No? Dato che, se vi ricordate, era venuta fuori quella clamorosa voce secondo la quale Ronaldo avrebbe voluto lasciare il Madrid per problemi legati al fisco, credo che ormai siamo fuori tempo massimo, Ronaldo resterà al Real anche il prossimo anno, anche la prossima stagione, ma gli hanno detto, se mai Ronaldo dovesse decidere di spostarsi da Madrid, se mai Ronaldo dovesse avere la volontà di provare qualcosa di diverso, dato che ha già giocato in Inghilterra, dato che ha già giocato in Spagna, rimangano fuori pochi campionati competitivi, non è che sarebbe interessato a venire in Italia con la casacca del Milan, a prendere un grandissimo ingaggio in una squadra storica, a lottare per traguardi prestigiosi? Insomma, c'è la possibilità di riuscire a spostare eventualmente il Ronaldo, non quest'anno, magari neanche il prossimo, ma un giorno. Tra l'altro Ronaldo va per i 33-34 anni, quindi sicuramente non è più un giocatore giovane, ma è ancora un giocatore che fa esattamente la differenza. In questo momento è il calciatore più forte in assoluto e se guardiamo storicamente quello che è il Milan, quello che è la filosofia del Milan, potrebbe benissimo incastrarsi in questa cosa, perché se in questo momento pensare a Cristiano Ronaldo al Milan fa estremamente ridere, dobbiamo anche pensare che in passato, per dire nel 2006, il Milan ha acquistato Ronaldo, il fenomeno, e se una volta si poteva solamente pensare di Ronaldo al Milan, era praticamente la stessa cosa, se non peggio essendo stato un grande ex interista. La stessa cosa si potrebbe dire con Ronaldinho, un pallone d'oro, uno dei calciatori più forti nella storia del calcio, che si muove dal Barcellona e arriva in Italia, arriva al Milan, negli anni in cui il Milan non era più quella grande squadra in Europa, che stava già iniziando questo lento declino, che adesso potrebbe risollevarci con questa nuova cordata cinese. Però la storia del Milan è fatta di campioni, con la C maiuscola, gli uomini copertina, i più grandi calciatori viventi, esistenti del momento, il Milan li è sempre andati a prendere, proprio per DNA, per storia. Cristiano Ronaldo con la casacca del Milan non starebbe neanche malissimo, lo dice uno che tipa Juventus, ha anche la camicia bianca e nera. Sicuramente con Ronaldo al Milan le gerarchie del campionato avrebbero stravolte completamente, la Juve non partirebbe più come favorita, nonostante i tantissimi scudetti consecutivi, sei scudetti consecutivi conquistati da Conte e d'Allegri. Cristiano Ronaldo muove gli equilibri, clamorosamente riesce a sollevare qualsiasi squadra, riesce a vincere solo le partite in Champions, figuriamoci in Serie A. Ripeto, non c'è nessuna trattativa, ma c'è stata la battuta, lo scambio di battute tra il procuratore di Ronaldo e gli uomini di mercato del Milan, e quindi ho voluto riportare la notizia. Poi può succedere tutto, avrebbe nel clamoroso, sarei contentissimo di vedere Ronaldo in Serie A e confrontarmi contro una squadra che può gestire Cristiano Ronaldo. Credo che sia impossibile, ma abbiamo visto che il Milan in questo mercato di cose impossibili se ne frega.